Ricaduta occupazionale 66 posti per anziani in una struttura che nulla da invidiare ad un albergo a 4 stelle. Grazie alla famiglia Russello anche la città da ieri ha un residence per anziani di tutto rispetto. Al taglio del nastro di Villa Maraclara nel rione Cantina Sociale era presente il sindaco Lucio Greco ed il vescovo della diocesi di Piazza Armerina Rosario Gisana, molti politici e parlamentari gelesi. La struttura dispone di sale ricreative, palestra, parrucchieria, estetica e benessere ed una cucina dedicata con annessa sala da pranzo. Completa ai servizi un pulmino per accompagnare gli anziani nelle uscite fuori porta e alle messe domenicali. L'idea nasce dal fatto che l'esigenza dei gelesi e delle famiglie gelesi che hanno bisogno naturalmente di accudire i propri cari e quindi noi a questo punto nel 2016 abbiamo pensato di progettare e dar vita a questa struttura soprattutto per i gelesi e per il territorio gelesi e anche le mitrofi proprio per dare alle famiglie un sostegno di cui hanno bisogno. Una struttura che è abbastanza fuori dal normale sia progettualmente che anche assistenzialmente questo lo vedremo sicuramente successivamente iniziando a lavorare. La struttura si presta abbastanza bene, è quello che si vede, naturalmente il susseguirsi si vedrà successivamente. Il Residence Villa Maraclara garantisce il supporto sanitario di cui necessitano gli anziani. Un'importante opportunità di accudire i propri cari non autosufficienti a pochi metri da casa senza dover necessariamente spostarsi in altri comuni del comprensorio come è accaduto sino ad oggi. Ma anche un'opportunità economica per il territorio poiché creerà nuove prospettive occupazionali. Noi disporremo a pieno regime degli operatori che lavoreranno all'interno della struttura come anche le cucine, abbiamo le cucine all'interno della struttura e quindi diciamo che abbiamo bisogno molto personale e daremo molti posti di lavoro che non è male per il territorio gelese. Taglio del nastro del sindaco Lucio Greco e benedizione del vescovo. Soddisfazione espressa dall'amministrazione comunale invitata a partecipare all'evento. Una struttura dove verranno ospitati gli anziani, una struttura a pagamento di un certo livello che nella città mancava, una città con un bacino alquanto elevato perché siamo convinti che potrà ospitare anche anziani non solo di Gela ma anche di tutto l'Interland. Siamo felici che la nostra città si arricchisce di una struttura così importante di livello perché è sempre un altro servizio che si offre all'utenza e a quanti hanno necessità di essere ospitati in una struttura del genere.